L'Aquila Roma ha il costo di un euro a biglietto e questa la notizia che ha portato la Filt CGL ad affrontare la questione con la regione in un tavolo che però non ha dato il risultato sperato. La questione può essere riassunta così. Un vettore privato ha presentato formale richiesta per coprire con i suoi mezzi la tratta suscitata e dopo il diniego della regione Abruzzo che già copriva quella tratta, la società privata fa ricorso al Tar e lo vince a causa di un vulnus normativo della regione Abruzzo. Perché fondamentalmente la sentenza ha trovato campo libero rispetto ad un vuoto normativo, un vuoto legislativo perché la regione Abruzzo non ha fondamentalmente programmato i servizi minimi di questa regione. La questione ora ruota sui danni economici verso la società di trasporto abruzzese TUA. Si tratta di uno dei tragitti più utilizzati e soprattutto il rischio è che i privati possano sovrapporre nuove corse anche ad altre tratte visto il precedente poiché l'Abruzzo ancora quel buco normativo non l'ha colmato. E se la regione non si dà da fare per trovare immediatamente una fonte normativa abbiamo il serio rischio che altre tratte importanti, immaginiamo la Pescara Chieti, immaginiamo anche la Teramo Giulianova, possono essere oggetto dello stesso tipo di intervento. Ad aggiungersi alla preoccupazione ora c'è anche quello della cessione dei rami d'azienda TUA. Spiega la Filt CGL e la società in questione la Sangritana SPA che si avvale del decreto Madia sul libero mercato e che, secondo il sindacato, rischia solo di creare un depotenziamento dell'azienda pubblica. Ad esempio sulla Sulmona Avezzano Roma ci sono 378 mila viaggiatori che annualmente fruiscono dei servizi dell'azienda regionale di trasporto. Noi non capiamo i motivi per i quali un ramo di questa società, ovvero i servizi commerciali, debbano in qualche modo passare ad un'altra società.